Ehi, ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi dopo un bel po' di tempo siamo tornati su Monopolico per completare di nuovo le vincite veloci Oggi vediamo di fare il record, quindi diciamo che la prima è già stata fatta Adesso la volevo disperare 5 volte Adesso diminuerò i più difficili Allora poi, il gioco vuole seriamente che mi fanno la distruzione Vabbè, lasciamo vedere In più se non è andato, dobbiamo completare E mo' opposta un vero problema Chissà quando la faremo questa robina e manca, non si sa Vediamo questo set, ma non penso Eh, non detto Facciamo sempre la vendetta Comprimi Dai, che ce la possiamo fare Ti prego il gioco, adesso la capire Cioè, se l'uscita è già tre volte di fila Quanto ce la vuole dare? Poi subito Vai, dadi No, buono, buono, buono Ci salvo, non ci salvo Adesso quanto è scelta non ho visto Allora, scelto Andrei lì Andrei lì non ci andiamo per un bel po' tempo logicamente niente apposta quel 5 no 8 dai adesso è un bel 7 niente 8 adesso 9 all 8 niente 7 io lo faccio apposta seriamente nonostante sto andando veloce raga 9 dai niente o il gioco lo sto facendo apposta o non so è un bel 3 niente cioè raga incredibile facciamo così faccio altri due tiri attenzione raga stazione ferroviaria no raga incredibile è buggato è super buggato raga impossibile ma che è c'è quattro distruzioni di fila voglio uscire per forza mi lascio come mi lascio per forza mi lascio per forza 7 mi lascio mi lascio una miglia se non mi lascio oh mamma mia direi di aver fatto banca rossa questo è il minimo andiamo qua che direi ragazzi ci è piaciuto ci guarda che pure nel pacchetto troviamo questo si è buono una sola carta nuova bellissima e niente noi ci vediamo domani con un prossimo io bella raga grazie